Williams, vedete in sovraimpressione appunto la formazione americana, invece la formazione jugoslava, questi 12 a disposizione dell'allenatore Pesic sono Kalpitz, Pavicev, Ilic, Kukoc, Pekarski, Alibegovic, Ziorgevic, Advic, Divac, Dobras, Razia e Koprivica. Gli arbitri della partita il cecoslovacco Kotleba e il canadese Zanolin. Per distinguere i due Kotleba è quello con meno capelli. Parte subito con un 3-0 eloquente la formazione americana con una schiacciata dell'agilissimo Thompson, grande saltatore. Vediamo il quintetto in campo per le due squadre. Gli Slavian numero 5 Pavicevic, il 7 Kukoc, il 12 Divac che è andato a segno in questo momento, il numero 14 Raja e il numero 6 Ilice, questo è il quintetto base della formazione migliore jugoslava. Gli Stati Uniti hanno invece sul parquet con il numero 6 Payton, con il 7 Thompson, con il 9 Simmons, poi con il 12 Brichey e con il 14 Shenzius, mentre Kukoc infila un canestro da 3 e siamo così 5 pari. Perde palla la squadra americana, squadra americana che gioca in maglia blu, mentre i plavi, che sarebbero poi gli azzurri jugoslavi, giocano con la maglia bianca. Kukoc è un giocatore dal talento assolutamente straordinario, tanto è vero che anche i due i due celebri fratelli Asa e Drasen Petrovic dicono che attualmente il giocatore più forte in Jugoslavia è questo Kukoc, il numero 7. E' il primo fallo per Thompson e due tiri liberi per Ilic. Assegno è il primo, vantaggio per la Jugoslavia, 6 a 5. Ancora assegno e siamo 7 a 5 per la Jugoslavia. Buono ancora Simmons, autore al primo a questo momento di 5 punti. fallo su Pavicevic che è il playmaker della squadra Jugoslava. E' Peyton che commette fallo, buon playmaker, ha un grosso limite nella mancanza assoluta di tiro. Ancora Pavicevic in possesso di palla, Laszad Ilic, Pavicevic. Vediamo un po' come si muovono gli slavi. Cerca l'entrata Pavicevic e trova il canestro. Una caratteristica fondamentale dei giocatori di scuola slava è proprio quella di avere una grandissima sensibilità per il canestro avversario. Ilic subisce il fallo da Scintius. E' Zanolin che fischia. Zanolin, il cognome è tipicamente italiano ma arbitro canadese. Anche se parla tranquillamente italiano e canadese e americano è perfettamente bilingue. Cambio già per gli Stati Uniti, esce il lunghissimo 2.17 Scintius ed entra invece il numero 15, Brian Williams. Ci sono due Williams negli Stati Uniti, uno è Brian, l'altro è Scott. Ilic nel frattempo infila il terzo tiro libero. Fiscano gli arbitri per un intervento irregolare. C'è addirittura un fallo in attacco fischiato al numero 12 Divac. 10 a 7 in favore degli Jugoslavi. Intervento con il piede sempre da parte di Divac. La rimessa laterale è 30 secondi per gli americani con Bricky. Payton riceve la palla, ancora Bricky. Contro Kukoc. Riesce a mandare la palla fuori dal campo. Kukoc rimessa laterale per gli Stati Uniti che vanno al tiro con Williams. Sbaglia completamente la misura. Ha toccato per ultimo Pavicevic. E dunque tocca ancora la formazione americana a rimettere in fase d'attacco. Payton. Pallo, pallo Pavicevic. Dice 3 secondi, Pavicevic. Ma lui non deve fare fallo e non preoccuparsi dell'infrazione degli avversari. Gli arbitri sono lì apposta per fischiare quello che riescono a fischiare, ovviamente. Thompson. Conclusione difficile a rimbalzo per Divac. Ancora Pavicevic. Non hanno effettuato finora cambi i jugoslavi. Vediamo Illic. Che riceve ancora il pallone di ritorno. Kukoc. Cioca costantemente dietro la linea dei tre punti, nonostante sia lunghissimo. Rilla, bravo. Illic a segno ancora. Vediamo questo Kukoc. È una guardia pur essendo alto. Due metri e 0,5. Un po' come Magic Johnson. Payton. È il primo canestro a sua azione, se non sbaglio, per Payton in questi campionati del mondo. Guardo subito le statistiche. Eh sì, è sì. È il primo canestro in azione. 12 a 9 comunque per la Jugoslavia sugli Stati Uniti. Giocati 4 minuti e 10 secondi. Illic. Non si è mai visto uno jugoslavo che abbia paura a tirare. Fallo in attacco fischiato a Radia. È già il secondo fallo per il centro jugoslavo. Gioca sotto canestro assieme all'amico Divac. 2,7 per Radia. 2,12 invece per Divac. E gli Jugoslavi hanno sempre avuto una grossa scuola di talenti. Tecnici e fisici. E poi dei fantastici tiratori. Quindi vogliamo ricordare per tutti Kisanovic e ovviamente Dalipasic. Che ancora lieta il campionato italiano giocando con la maglia dell'Itaci Venezia. Stoppato questa volta Illic. La palla rimane in campo. Thompson rilancia subito Payton. Che grande passatore. Mamma mia. Che mani. Si monso. Due punti. Ha un playmaker strepitoso questo Payton. Peccato dicevamo non abbia un senso del canestro pari al suo talento di playmaker. Ancora un fallo in attacco per Radia. Secondo fallo. No, terzo fallo. Terzo fallo. E questo è un colpo che pesa per la Jugoslavia. Infatti Raja è stato il migliore realizzatore con 21 punti di media partita fino a questo momento per la Jugoslavia. Payton. Che sto dimostrando questa sera di avere dunque anche un discreto talento offensivo. 13-12 ripassano in vantaggio gli Stati Uniti. Cucos. Canestro. Tanto per raccontarvi velocemente la storia di questo ragazzo. Fino a quattro anni fa non giocava a palla a canestro ma giocava a calcio. Era alla sinistra nell'Aiduc Spalato ovviamente nelle formazioni giovanili. Finché improvvisamente in un'estate aumentò di ben 21 centimetri. E da lì il passaggio alla palla a canestro è stato immediato. Ovviamente non era scritto che dovesse essere un fenomeno come invece potrebbe diventare. 16-13 allunga ancora un po' la Jugoslavia. Giocati 6 minuti e 10. Shintius rimbalza l'attacco e il canestro che accorcia le distanze. Un punto di vantaggio per gli slavi. 16-15. Vavicevis. Divas del Raja. Scivola la palla dalle mani di Raja. Cambio negli Stati Uniti. Rientra Scott Williams numero 10. Vediamo chi uscirà. Esce il numero 12 Ricky. Anche gli slavi hanno effettuato un cambio mandando in campo il numero 8. Pekarski al posto di Raja. Scienzius, sbaglia, è arrivato di Scott Williams. che ovviamente schiaccia subito a canestro per far vedere che c'è anche lui in campo e che la sua presenza potrà contare molto per gli Stati Uniti. Scott Williams è un altro giocatore che ha una storia analoga se non simile a quella di Kukoc. infatti, pur essendo da sempre giocatori di pallacanestro, quando giocava nelle high school, vale a dire al liceo, ecco proprio il giocatore inquadrato adesso, non era granché considerato. finché improvvisamente anche lui in un'estate aumentò di 20 centimetri, spostando ovviamente il suo gioco da guardia che era a centro e diventando in breve tempo uno dei centri più promettenti degli Stati Uniti. due tiri liberi per Pekarski. vai il primo adesso aspettiamo anche il secondo niente, a rimbalzo per Shintzius, 17 pari, in frazione di passi fischiata a Phaeton, è intervenuto tempestivo Zanolin, pasticcia poi la squadra jugoslava, riesce a recuperare la palla, Favicevic, Illic, va per schiacciare ma non si può fare, trova la palla, Divac, ancora la jugoslavia con un po' di fatica, recupera la palla, tiro da 3 di Phaevicevic, questa volta non molto saggio nella conclusione, Payton, fermato, stoppato sotto canestro, Yuri, Phaevicevic, Kukov, Illic dentro per Divac, ancora Kukov, tiro da 3, ah mamma mia, è già il secondo canestro da 3 punti per questo Kukov, Tony Kukov, due metri e cinque, è nato nel 68, gioca nella jugoplastica, Shintzius, ragazzo mio non devi sbagliare sti canestri, va bene che poi arriva un tuo compagno a schiacciare, però Johnson va a segno e siamo 20-19 per la Jugoslavia, ancora Favicevic su Illic, Kukov, una finta, l'entrata, si libera della palla su Illic, che sbaglia, rimbalzo catturato da Fury, Johnson, fallo fischiato, in attacco a Johnson stesso mi pare, il primo fallo per Johnson, cinque falli Stati Uniti, cinque falli Jugoslavia, cambio di playmaker per gli Stati Uniti, entra in campo Richard ed esce, ovviamente Payton, sono i due playmaker di ruolo della squadra, quando esce uno abitualmente entra l'altro, Illic, ancora Kukov al tiro da 3, mamma mia, che bel ball, Larry Brown, allenatore della squadra americana, si alza, preoccupato per il talento offensivo di questo ragazzo, Zanolin, fischia, non abbiamo visto bene cosa, probabilmente un fallo in attacco a Scott Williams, che un po' polemicamente applaude l'arbitro, ma, ormai la decisione è stata presa, per gli Jugoslavi in campo il 13 Dobras, al posto di Illic, che l'allenatore Pesic ha visto un po' stanco, Ancora, Kukov, eh stavolta non va, forse era troppo vicino, ma è giusto che anche lui sbagli qualche canestro per far vedere agli altri che è un essere umano, Scott Williams, adesso è Yuri in possesso di palla, Richard, fallo fischiato, questa volta Pekarski, incomincia a farsi un po' aspra, la battaglia nella zona calda dell'area dei tre secondi, a vedere questa partita c'è un pubblico tutto sommato numeroso, siamo vicini alle 6-700 persone, andiamo così occhio e croce, ci sono ovviamente quasi tutti i giocatori delle altre squadre, sbaglia, Shintzius, Kukov, oh mamma, in contropiede, arresto, tiro da tale punto, sì ma se la metta così, poi la cosa più sorprendente di questo Tony Kukov è che fa le cose con tale naturalezza da fare arrabbiare, che invece fa una fatica bestia per fare due punti, Shintzius a segno, 5 punti di vantaggio della Jugoslavia, 26-21, entrambe imbattute finora le squadre americana e Jugoslava, fa rimessa laterale da affidare agli Stati Uniti, doppio cambio con il numero 7, entra Thompson, con il numero 9 ritorna Simmons, e vengono avvicendati Shintzius e Johnson. Thompson, un giocatore con talento e soprattutto con una grandissima elevazione, chiama la difesa Pritchard, che poi deve correre dietro a Pavicevic, Kukov, un po' addormentato il lungo Divac, Thompson, pallo, pallo, pallo di Dobrash, due tiri liberi Thompson, Steve Thompson della Syracuse University, non molto alto, 1,85 m, 1,86 m, ma con una elevazione spaventosa, 1,15 m da fermo, 2 tiri liberi, non va al primo, a 3 punti di ritardo la formazione americana, 26-23, e 3 punti rimangono, rimbalzo di Divac, Dobrash poi per Pavicevic, arriva per ricevere il pallone Dobrash, Pavicevic, dentro a Divac, non sbagliare, no, pallo, pallo fischiato a Chiuri, che doveva lottare contro un avversario molto più alto, Pekarski, rimessa laterale comunque per gli Jugoslavi, infatti ha commesso adesso il settimo pallo alla squadra americana, 7, le ha commessi comunque anche la Jugoslavia. Ancora da 3, Kukos. Adesso li contiamo, sono 1, 2, 3, 4, 5 tiri da 3 punti consecutivi che Kukos ha messo a segno. Finora ha già segnato 17 punti, una roba spaventosa. Richard, niente, quasi rimbalzo di Kukos, controlla comunque poi la palla, il numero 10, Jorjevic, ed ha un brutto passaggio a Kukos. Thompson, questo schiaccia. 29, Jugoslavia, 25, Stati Uniti. Brutto passaggio al limite dell'intenzionale, il fallo commesso su Pritchell. Beh, gli Aguit non gli hanno fischiato niente contro per poi fischiargli invece un'infrazione di passi. Potevano almeno evitarla. C'è Larry Brown che chiama un minuto di sospensione e ne approfitta per discutere soprattutto con Zanolin. Della gente che è morta, della gente che è dispersa, ci sia stato un calo delle attività economiche, turistiche, però in realtà qui si continua a vivere e se devo dirlo onestamente neanche così male. Kukos, 19 punti. Tutto questo in 12 minuti e 27 secondi. Ancora Kukos che prende la palla, vediamo se sa fare qualcos'altro oltre a tirare. Subisce fallo dal piccolo Thompson, pensate un po', i due devono giocare guardia. E li avete visti inquadrati vicini, ci sono tra i due giocatori 20 centimetri di differenza. e giocano nello stesso ruolo. Uno più uno per Kukos. Sbaglia il primo stavolta, con qualche sorpresa da parte degli spettatori che ormai si erano abituati a vedere andare dentro ogni tiro di Kukos. Pallo, 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 Pekarski, l'avevo visto anch'io. Uno più uno adesso per il numero 5 Johnson, uno più uno. Payton ritorna in campo al posto di Pritchard. Uno più uno va il primo. Sentivano molto la partita entrambe le squadre, sapevano che pur non contando per il successo finale, infatti questa partita serve praticamente a disegnare la prima e la seconda del girone a cui entrambe appartengono. Serviva però questa formazione a far vedere agli avversari chi è il più forte e in un'eventuale, probabile finale ancora fra queste due squadre, che sono apparse finora nettamente le più forti, avere così un leggero vantaggio psicologico. Infrazione di passi di Raja. 27 Stati Uniti, 31 per la Jugoslavia. Va Canestro Simons. Autore di 9 punti, 31-29. Si riaggancia la Jugoslavia. Giorgevic. Palla appoggiata su Dobras. Riesce a saltare Yuri, poi non trova nessuno. Giorgevic non può certo tirare da lì, infatti ci ripensa. Il canestro è di Dobras. Riallunga leggermente la Jugoslavia, 33-29. Simons. Dimostra il grande senso del canestro, Simons. E tocca stavolta a Pesic, allenatore jugoslavo, a chiedere un time out, mentre mancano 6 minuti e 7 secondi alla chiudere del primo tempo. E gli slavi hanno due punti di vantaggio, 33-31. Finora una partita bellissima. In queste occasioni, ragazzi dei cinque continenti fanno amicizie tra loro, simpatizzano tra loro, pur parlando linguaggi diversi. È incomprensibile. Buona canestra di Giorgevic e fallo di Johnson, che consente a Giorgevic di andare in lunetta per un altro tiro libero. 35-31. 36. Pressing Jugoslavo riesce quasi l'anticipo a Raja. E poi, come avete visto, arrivare proprio sulla nostra telecamera Chiuri, che ha rischiato di travolgere il povero operatore Salvatore. Ma la cosa più grave ovviamente era la telecamera, non l'operatore. Il pericolo più grave era che rompesse la camera. Scrittiamo e riprendiamo con la partita. Payton. Passi. Non è riuscito a raccogliere subito il passaggio Chiuri. E ovviamente, nel tentativo di controllare la palla, ha proseguito la sua corsa, commettendo l'infrazione di passe. Triplo cambio adesso per Larry Brown, allenatore americano. Sbaglia Divas, rimbalzo per gli Stati Uniti. Non provano il tiro da tre gli statunitensi. Payton invece lo fa. E non è, come già vi ho detto più volte, un grande tiratore. Fallo fischiato a Dobrash, che era andato a prendere la palla. E il secondo fallo per il numero 13 Slavo, che venne richiamato all'ordine dal suo allenatore. uno più uno per Thompson. Non va l'uno più uno per Thompson, mentre gli Stati Uniti hanno effettuato il loro triplo cambio. Giorgio Javis, canestro da tre. E se andiamo a guardare, probabilmente finora sono i canestri da tre punti che hanno fatto la differenza. Bricky a segno, infatti non hanno mai infilato da tre. Gli americani hanno fatto ben sei canestri da tre punti, invece gli Jugoslavi, e hanno sei punti di vantaggio. Palla contesa. E... viene fischiato un pallone in favore degli americani. Divac, che raccoglieva il pallone da terra, lottando con gli avversari, l'ha portato un pochettino, ma soltanto che basta, oltre alla linea di fondo. Non riesce il passaggio di Simmons verso Bricky. Kukoc torna in panchina a pigliare un po' di fiato, se lo merita. Da alcuni minuti in effetti era un po' al di fuori del gioco dei suoi compagni di squadra. Eh vabbè, adesso non esageriamo. E' stato Giorgio Javis a buttare via la palla da tre. Thompson va al tiro da sotto, subisce fallo, ed è il terzo fallo. No. Sì, sì, è il terzo fallo di Dobrash. E... manda ancora in lunetta per uno più uno Thompson, che però, finora, ha sempre sbagliato le conclusioni. Vediamo se stavolta zecca la mira. No. Ha due tiri liberi, due tiri liberi stavolta. Larry Brown va a dare istruzioni a Schintzius, il lunghissimo pivot, e poi lo richiama per il cambio. Vediamo chi toglie. No, per il momento toglie solamente Thompson, rimettendo in campo Curie. E Schintzius è pronto invece sulla sedia dei cambio. Dobrash. 39 a 34 in favore della Jugoslavia. Ancora Dobrash, che ha ricevuto la palla. Divac, Raja, Camestro. Primi due punti della partita per Raja. Anticipo ancora di Divac, poi Ilic. Fa saltare un paio di avversari in fila. Ha rubato il pallone a metà campo agli Stati Uniti. attua adesso questo pressing completamente nella metà campo avversaria la Jugoslavia. Riesce Simmons a tenere il pallone in gioco. Arriva Scott Williams. Buonissimo Camestro. 3-0-8 come vedete inquadrato anche adesso come vedete anche adesso che è inquadrato il tabellone. Tre minuti alla fine sette punti di vantaggio per gli Jugoslavi. a Ilic stavolta va completamente fuori misura. Peyton cerca la schiacciata. Iuri non la trova subisce un fallo da Georgevich. Avrà due tiri liberi ma sarebbe stato molto meglio per lui e per la sua squadra. Chi avesse segnato esce Smith assieme a Williams per gli Stati Uniti ritornano Shintzius e Shintzius mi pare Simons a segno il primo tiro libero vediamo il secondo 43-37 43-37 rimane 2-45 probabilmente la Jugoslavia chiuderà in vantaggio questo primo tempo ma la partita è ancora tutta da vivere e da godere. Dobrash ancora questo grande pressing con Shintzius che fa da pivot addirittura nel cerchio di metà campo poi prende il rimbalzo e subisce il fallo come faccia per un giocatore così lungo che senza fatica arriva con le mani all'anello a sbagliare dei tiri così semplici per me rimarrà sempre un mistero d'accordo subito fallo vale di aver schiacciare senza paura e poi succeda quel che succeda Shintzius avrà due tiri liberi non l'uno più uno sbagliato il primo mastica il paradenti dal nervoso Shintzius e infila però il secondo tiro 45-38 Giorgevic Shintzius che riesce ad anticipare questa volta Divac si lamenta per il fallo Divac solo rimesso laterale per la Jugoslavia 18 secondi per concludere relazione Dobras Ilic Ilic Divac ancora la palla riaperta fuori riceve dall'angolo Ilic che poi va a cercarsi la stoppata pallone recuperato da Rajah ma gli Stati Uniti hanno peccato troppo di ingenuità dopo aver lavorato bene in difesa per quasi 30 secondi Payton stoppato Payton rimesso laterale per gli Stati Uniti cambio esce di nuovo Shintzius assieme a Payton ritorna Prichard con Johnson ecco il playmaker Prichard che ha ricevuto la palla non hanno tiratori dalla grande distanza gli americani preferiscono giocare la palla sotto canestro fidando che la percentuale sotto canestro è sempre più alta di quella del tiro da fuori a meno che in campo non ci sia un fenomeno come Tutto 1 e 10 forse meno alla fine del tempo passi 47 a 40 per la Jugoslavia partita decisamente interessante con molti buoni talenti in campo infrazione nel palleggio di Prichard esce Divac ritorna Pekarski e perdono sprecando l'opportunità di rieganciare gli avversari il pallone gli americani non riesce l'anticipo ai Huri il tiro da tre è di Dobras e sono sette canestri da tre punti degli slavi Simons sotto canestro buono il primo tempo anche di Simons autore dei 15 punti Pesic allenatore della Jugoslavia si lamenta presso il tavolo degli ufficiali di campo voleva forse un'infrazione di passi per la presidenziale americana bravo Dobras e ci sono dei ragazzi mica male in questa partita sbaglia la schiacciata il numero 12 americano e finisce il tempo con due errori consecutivi sotto canestro di Simons prima di Bricky prima e di Simons poi poi quando ha preso per la terza volta rimbalzo Johnson purtroppo il tempo è scaduto 10 punti di vantaggio per gli Jugoslavi vedete qui Eia Eia Jugoslavia al termine del primo tempo 52 42 i migliori per la Jugoslavia dopo 20 minuti Quintetti in campo in questo inizio di ripresa mentre gli Stati Uniti hanno già commesso un fallo con Simons il numero 5 per gli Jugoslavi Povicevic il numero 6 Ilic il 7 Kukos il 12 Divac e il 14 Raja vale a dire il quintetto base scelto dall'allenatore Pesic per gli americani in campo invece ci sono Payton poi il Payton è giocatore con la maglia numero 6 poi con la maglia numero 5 Johnson con la maglia numero 7 Thompson con la maglia numero 9 Simons e con il 10 Scott Williams 52 a 42 ancora Kukos Pavicevic difesa individuale pallone che arriva sotto a Divac ed è Canestro per mettere un po' comunque le cose a posto facendo pendere leggermente l'argo della bilancia in favore degli americani diciamo che agli scorsi europei di Atene quelli veri cioè quelli non i unoris ma per i grandi in cui l'Italia segra si tirata al quinto posto dicevamo a quegli europei quegli europei nella prima giornata la Jugoslavia si presentò in campo con un quintetto in cui erano inseriti Divac Raja e Kukos questo appunto per significare che tre di questi giocatori sono praticamente tre componenti non di secondo piano della prima squadra Jugoslava due tiri Scott Williams 56 42 4 a 0 il parziale nel secondo tempo per la Jugoslavia Williams un po' troppo un po' troppo sopra le righe nei suoi atteggiamenti vuole evidentemente sentirsi e farsi vedere sempre al centro dell'attenzione comunque un buon giocatore Kukos Kukos 5 mentre invece hanno tre falli per gli slavi Divac Dobras e Raja vale a dire i numeri 12 13 14 un punto per Pavicevic e la Jugoslavia allunga ancora più 13 57 44 Williams e non c'è non c'è il tiro da fuori proprio non cercano neanche prova adesso Thompson non va rimbalzo che sfugge dalle mani di Scott Williams che per la rabbia spinge via con una gomitata il leggerissimo Diva il leggerissimo Kukos che non se ne accorge neanche forse la forza di questo giocatore è quello di essere diciamo così psicologicamente inattaccabile perlomeno sembra il cosiddetto sguardo olimpico Illich ancora a segno due minuti e mezzo e per gli Stati Uniti solo due punti nel secondo tempo contro i sette degli slavi che hanno così 15 punti di vantaggio Johnson a canestro Larry Johnson della Skyline High School poi passato alla Southern Methodist University 59.46 tre minuti sono filati via in questo secondo tempo perde la palla gliela ruba Payton Pavicevic eccolo ancora Payton che dà un buon pallone anzi buonissimo a Simmons che però sbaglia la conclusione da sotto recupera Scott Williams Payton in entrata fallo pallo di Illich nuove istruzioni adesso la situazione è abbastanza calma tranquilla rilassata per cui sicuramente il time out chiamato dagli allenatori a qualcosa è servito 59.46 Thompson niente Richard trova il tiro da tre no Simmons e sta la linea di fondo per cui rende inutile tutto il suo darsi da fare 59.46 tre minuti e mezzo nel secondo tempo Kukos da tre non va per poco però non è che vi ha sbagliato poi di molto Richard Shintzius che è meglio si vada a mettere sotto testo fallo fallo di Raja quarto fallo per il robusto pivot della Jugoslavia Dino Raja due metri e sette gioca pannella jugoplastica sembra meno spumeggiante questo inizio di ripresa di quanto sia invece stato il primo tempo ma abbiamo ancora 16 minuti di gioco stiamo a vedere Simmons per Pritchard si fa vedere ma non riceve sotto canestro Johnson Pritchard un'entrata e due punti trovati con capabilità da Pritchard 59 a 48 per la Jugoslavia che comunque ha sempre 11 punti di vantaggio fallo di Pritchard questo onestamente non l'ho capita erano a contatto praticamente Pavicevic e Pritchard davanti a dove mi trovo io c'è stato un contatto appunto tra i due ma non mi è parso falloso anche se Pritchard si è buttato terra forse per cercare di avere un fallo a favore comunque Pavicevic va al tiro da tre e lo infila il tiro da tre punti sta uccidendo gli statunitensi largo adesso il vantaggio 14 punti per la Jugoslavia 62 a 48 fischiato un fallo ancora in difesa alla Jugoslavia vediamo chi è se Divac incominciano ad esserci dei problemini infatti i due pivot titolari Raja e Divac hanno entrambi quattro falli cerca di correre a eri pari Pesic mentre c'è stata un'altra schiacciata di Simons dicevamo cerca di correre a eri pari Pesic l'allenatore Slavo ha già mandato in campo Coprivica e si prepara a rimandare in campo anche Pekarski certo che Divac e Raja sono un'altra cosa non valgo il canestro fallo fischiato Thompson rimesso laterale per la Jugoslavia che il giovanissimo ha proprio una faccia da ragazzino Tony Kukoc si appresta ad effettuare avvenuto il cambio per gli Slavi riceve sotto canestro Ilic stoppato poi però è Pekarski appena entrato che si fa ben valere 64 a 50 onestamente nei panni dell'allenatore Larry Brown non sapremmo che pesce piliare fallo in attacco di Shintzus è il secondo fallo per Shintzus che protesta sempre se facesse qualche canestro in più o qualche protesta in meno forse sarebbe meglio per tutti dicevamo nei panni di Larry Brown avendo una squadra che ha completamente escluso probabilmente dai programmi il tiro da fuori resterebbe forse solo la carta di una maggiore velocità ma a giocare in velocità contro gli Slavi e farsi trovare poi con una difesa non schierata è sempre un rischio non differente fucoz piliare in basso l'attacco ma poi sbaglia il tap-in Richard in entrata canestro e fallo di fucoz Scott Williams ritorna in campo al posto di Shintzus che non sembra gradire moltissimo questi continui cambi chiamati dal suo allenatore Dwayne Shintzus lo troviamo nell'università della Florida 7-2 introducendo dalle misure americane vuol dire che è qualcosa come 2 metri e 16 Richard ha un gioco da 3 punti 64 Jugoslavia 53 Stati Uniti giocati 6 minuti nel secondo tempo Kukoc che ha avuto un inizio fulgorante poi per fortuna è ridisceso a livelli umani Pavicevic e da 3 punti un'altra volta e vedete appena gli slavi hanno mezzo centimetro libero tirano ed è canestro e lì non ci sono difese che tengano la rimessa laterale per gli Stati Uniti non dovrebbero esserci 30 secondi infatti il cronometro che era stato riportato a 30 adesso deve essere riaggiustato Richard cerca un uomo sotto lo trova in Simmons che ha subito fallo però da Koprivica la rimessa laterale americana ritorna Dobrash al posto di Illich altro giocatore che era partito fortissimo ma evidentemente questi ragazzi hanno bisogno anche di qualche pausa Simmons prova una volta il tiro da lì si avvicina e sbaglia all'imbalzo di Kukoc poi è Dobrash che va avanti con la palla passi giusto cambio americano esce Thompson ed entra Smith il numero 8 Scott Williams fa la rimessa in gioco scusate ma è un po' alto il volume dello speaker mi rintrona nelle orecchie non riesco a sentire quello che dico io Scott Williams sbaglia buonissimo rimbalzo d'attacco di Simmons non vale il canestro era stato fischiato prima il fallo dagli arbitri il fallo di Pekarski i lunghi jugoslavi si stanno via via caricando di palle e ha già esaurito il bonus in questo inizio di ripresa la formazione slava rimbalzo ancora della batteria dei lunghi jugoslava è stato questa volta Dobrash a portare a casa il pallone Pavicevic Kukoc vediamo cosa combina palleggia 4-4 si avvicina canestro poi libera il pallone verso Pavicevic e sono altri due punti 69-53 per la Jugoslavia è smettuto a fare il playmaker mentre Pritchard si è spostato nel ruolo di guardia Scott Williams niente niente e rimbalzo strappato ancora da Pekarski Kukoc questo tira da tre figuriamoci arriva a quota 22 Kukoc con ben sei canesti da tre punti si anima la panchina della Jugoslavia da sotto Williams vedete proprio due stili due concezioni di gioco completamente diverse tra queste due squadre gli Jugoslavi che prediligono il tiro dalla grande distanza e hanno anche una precisione però invidiabile ancora Kukoc mamma mia ragazzo nascendo e ha avuto una grande fortuna cerca di sfruttarla al meglio di non perdere tutta strada 75 Jugoslavia 55 Stati Uniti Sandro Ramba che è lì a guardare dietro la panchina della Jugoslavia ha una faccia un pochettino perplessa è ritornato ad essere il capo allenatore della Nazionale dal 30 giugno in sostituzione di Valerio Bianchini che ha preferito ritornare ad allenare un club da Scavolini Pesaro per la precisione e pensa se questi qui sono i nuovi Jugoslavi se tra pochi mesi alle prossime manifestazioni internazionali devono ancora trovarmi di fronte a un soggetto del genere sono già cavoli amari 75 dunque Jugoslavia 55 Stati Uniti 20 punti di vantaggio giocati 8 minuti e 29 secondi nella ripresa diamo leggermente un'occhiata al tiro da 3 punti gli Stati Uniti nel primo tempo hanno avuto 0 su 1 gli Slavi 7 su 8 e ai 7 canesti da 3 realizzati nel primo tempo ne hanno aggiunti ancora 1 2 3 e 4 vale a dire che hanno 11 punti in più grazie al tiro da 3 punti Larry Brown ha chiamato ovviamente il time out vediamo adesso che cosa sta pensando di fare forse spaventare gli avversari con schiacciate devastanti come questa di Yuri ma non so se basta peccarski esce uno entra l'altro ma la solfa non cambia tiro e canestro tiro e canestro smetto se poi se poi gli americani non ci beccano neanche da 3 4 metri come in questo caso fallo fischiato mi pare al numero 15 coprivica 2 falli per lui ha già esaurito il bonus la Jugoslavia questo significa che il giocatore che ha subito fallo vale a dire Simmons può andare in lunetta 15 punti per Simmons nel primo tempo sono 18 adesso in totale per lui un'eccellente partita ma non basta un singolo contro una squadra così equilibrata così impenetrabile come quella Jugoslava 77 a 59 ancora Kukos cerca 2-3 volte il palleggio adesso si libera della palla su Pavicevic eccolo lì un altro non va stavolta il tiro da 3 di Dobrash rimbalzo finalmente per gli Stati Uniti Chiuri spinta l'entrata poi non ha lo spazio Smith anzi Johnson da sotto si vede spuggire il pallone dalle mani troppe comunque l'ingenuità degli americani scusatemi ma questo è uno show a cui non ho mai assistito Kukos ancora un canestro da 3 palla rubata dalla difesa Jugoslava Kukos passi Zanolin da buon arbitro che deve giudicare decide che non è giusto umiliare troppo gli avversari e fischia un'infrazione di passi a Kukos che onestamente solleva qualche dubbio 80 a 59 in favore della Jugoslavia il tiro è stato di Yuri deviato da Kukos la palla poi ripresa però sotto canestro da un giocatore americano che subisce pallo da Parice invece adesso vediamo di scoprire chi ha subito pallo è stato Thompson più riesce ritorna Bricky il numero 12 Thompson ha due tiri liberi ma con il primo non arriva neanche al ferro applausi di scherno dalla panchina Jugoslava sono proprio degli stupidotti sono dei ragazzotti questi giocatori Jugoslavi non bisogna mai infierire sull'avversario non bisogna mai prenderlo in giro perché arriva il giorno che ti fa ripagare tutto e allora sei tu a soffrire sempre il massimo rispetto degli avversari anche perché se vinci troppo facilmente con uno stupido non c'è più giusto sminuisce anche il valore del tuo risultato della tua vittoria Kukos per Giorgevic e che è appena entrato si alza e tira questo Peckarski che non è niente male vediamo dove gioca beh adesso osserviamo l'azione d'attacco di Bricky che va a segno ma sono sempre 20 punti di ritardo per gli americani e mancano solo per loro 9 minuti 24 alla conclusione Peighton richiamato in panchina al suo posto ritorna in campo Richard Larry Brown che fa un po' più diciamo così da padre consigliere che non da vero e proprio sergente di ferro nel ruolo di allenatore ovviamente di questi ragazzi americani spiega a Peighton in che cosa ha sbagliato ovviamente secondo la sua filosofia cestistica Divac e ragazzi scusate Kukot per coprivizza o coprivica che gli si voglia canestro 84 a 63 gli americani fanno queste cose poi sbagliano risbagliano saltano forcano impicano e alla fine riescono a fare un canestro Johnson 8 punti 84 a 65 19 di vantaggio per la Jugoslavia 8 e 40 e poi la partita è finita sono tanti 8 minuti e 40 ma crediamo sia piuttosto problematico il recupero degli Stati Uniti Kotleba fischia un fallo a Johnson quarto fallo quarto fallo ecco qui Kukot pronto per la rimessa laterale questo è un giocatore che qualsiasi squadra prenderebbe adesso qui così immediatamente lo porterebbe nel primo angolino un po' tranquillo per fargli firmare un contratto di quelli fantastici Kukot ancora da tre una guaglia di due metri e cinque con un tiro così e ancora poi un talento innato su cui lavorare è una cosa veramente fuori dal normale Johnson è dato segno per gli Stati Uniti Canestro da tre punti buono dice Kotleba canestro segnato da Giorgevic e anche un tiro libero supplementare per il fallo commesso da Prichard in verità se ne vado a vedere un po' nei precedenti incontri Kukot non era stato non era stato ottenuto in campo tantissimo vale a dire una media di 22 23 minuti a partita aveva 11 punti di media di realizzazione e soprattutto da tre aveva una percentuale del 25% con due tiri realizzati su otto stasera invece si è proprio scatenato ancora la Jugoslavia in possesso di palla mi piacerebbe vedere anche un'entrata però di Kukos oltre al tiro da tre viva un solco che ormai non si può più ricomporre quello che divide la Jugoslavia dagli Stati Uniti 25 punti a 7 minuti e 20 dalla conclusione dopo aver vinto con la Cina 126 a 79 con la Nigeria 126 a 82 con l'Australia 86 a 73 la Jugoslavia dimostra la propria forza nella partita più importante fino a questo momento degli europei mentre gli Stati Uniti avevano vinto in precedenza 109 a 89 con Porto Rico 84 a 80 con l'Australia e 100 a 50 con la Cina partita anche questa trasmessa dal Gatti gruppo di azione televisivo e diffusa su Telemilano 2 Telegiolli e Telebiel due punti per Smith sono i primi della partita Kukos vedete la sua scioltezza di movimenti la sua proprio innata capacità di controllare la palla Chiuri commette il secondo pallo nella partita per quanto riguarda i falli di squadra 11 ne hanno gli slavi 8 invece gli americani due tiri liberi uno più uno per pekarski pekarski assegno il primo 8 punti per pekarski mentre continua con i cambi la rotazione continua Larry Brown 94-69 Williams 1-1 per John Williams 1-1 per George Sbaglia stavolta la conclusione, Brian Williams per Smith, ha niente da dire, spettacolari queste schiacciate da parte dei giocatori americani ma sbagliano sempre due punti, chi è che la prende? Chi è che la prende? Alla fine Brian Williams che non la prende, questo è piuttosto indicativo, Brian Williams che ha fatto una fatica boia per impossessarsi assieme ai suoi compagni di questa palla, non appena l'ha avuta sicuro tra le mani si è rilassato e con un gesto di disperazione ha visto il pallone che gli spuggiva dalle mani e finiva sul fondo. 94 a 75 dunque 6 e 12 alla conclusione della partita in questa terza edizione dei campionati del mondo di pallacanestro maschile juniores. Una ridimensionatina per la formazione americana, una conferma invece per il grande potenziale della formazione jugoslava. Un quadrata di spalle, una spettatrice, non sappiamo ovviamente riconoscerla. Questo invece era uno dei nostri operatori. Ricordiamo che è in funzione per queste riprese l'unità mobile 1 del GATT, del gruppo di azione televisivo con quattro camere in funzione e ovviamente tutto quello che ci vuole in regia. Per cercare di offrire un servizio preciso ai nostri ascoltatori, ma il servizio preciso qui lo sta facendo Pukos. Bisogna richiamarlo in panchina per manifesta superiorità. E questo era un altro tiro da tre se non ve ne siete accorti. Thompson, non capiscono più niente gli americani, non vedono più neanche dove è il canestro, inciampano, incespicano e si arrabbiano. Ci crediamo perché non sono dei brocchi, sono dei giocatori, sono fior di giocatori, ma qui. Quando si alza quello lì con la manina benedetta è finito tutto. Zanolin fischia un fallo che lascia molto perplessi, un fallo del numero 10 Djordjevic, che però non protesta, per cui quando un giocatore accetta così tranquillo, senza neppure un gesto di disappunto e il fisco dell'arbitro, vuol dire che l'arbitro ci ha azzeccato, perlomeno di solito. Scott Williams, no Brian Williams, Scott è in panchina. Scott Williams, non tirare da lì, ah beh. Raja, questo è un gancio che va a segno. Ancora Smith, su Simmons, niente, non c'è tiro da fuori per gli americani, vedete. Si si avvicina il più possibile a canestro, ma non sempre. Le cose vanno come si vorrebbe, soprattutto perché i lunghi Jugoslavi fanno buona guardia. Basta, facciamola finita qua. Ormai è come fare un'indigestione di dolci, di gelato. Il primo è buono, il secondo fa piacere, il terzo è una libidine, ma il quarto si incomincia ad avere un po' di nausea. Cucos, per piacere, smettila di umiliare tutti e vai in panchina. Ci sono ancora 4 minuti e 34 dalla conclusione della partita. Una cosa sconvolgente. Allora, Cucos ha fatto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, tiri da tre punti. Ne ha infilati undici, credo, su tredici. Una cosa... ...veramente da stand innovation, cioè da applauso a scena aperta. Vediamo il punteggio, sempre eventi di vantaggio per la Jugoslavia, 102 a 82. Parlando con l'allenatore Larry Brown degli Stati Uniti, gli abbiamo chiesto se c'era qui, in questa edizione dei mondiali, qualche giocatore che poteva interessare a lui per la sua università o che potrebbe fare buona figura nelle università americane. Lui, senza indecisione, ha detto il numero nove dell'Italia e il numero sette della Jugoslavia. Il numero nove dell'Italia è Nicolai, il numero sette della Jugoslavia e questo fenomenale Cucos, Tony Cucos. Dobrash, sempre per Cucos, affrontato da Bricky. Cucos viene fermato stavolta da Bricky, rimessa laterale per gli Stati Uniti. Pritchard, buona, buona schiacciata. Un ragazzo che salta bene, questo Pritchard. 102-84, Dobrash. Per Giorgevic ancora Dobrash. Cucos porta la palla indietro, un po' come fa Dalipagic. E poi c'è un fallo intenzionale, no, non crediamo. Un fallo fischiato a Smith, il numero otto americano. Fallo intenzionale, dunque significa che il giocatore che ha subito il fallo avrà due tiri liberi e poi ci sarà la rimessa laterale per la squadra appunto che usufruisce dei due tiri liberi. In questo caso è Dobrash, che va assieme dalla lunetta. 103-84. E 103-84 rimane. Ancora il Jugoslavia a rimettere la palla in campo. Giorgevic contro Payton. 3-15 alla fine di questa partita, interessante nei primi 20 minuti e illuminata poi dalle continue folgorazioni di Tony Kukos. Fallo di Payton. Avrà due tiri liberi Giorgevic che dice questa è un'infrazione di passi, non è un fallo mio, ma insomma non è esattamente così che l'hanno pensata gli altri. Cambio per la Jugoslavia, esce Kukos, giustamente richiamato in panchina per un lungo e meritato applauso. Lascia con 37 punti, applaudito da tutti. E parlando prima dell'inizio di questa partita, anche con Pessina, che adesso impiede ad applaudire il giocatore della Nazionale Italiana, della Berloni Torino, mi aveva detto se vuoi il nome sicuro di un fenomeno, segnati Kukos. Evidentemente l'aveva già incontrato. Johnson è Gregio schiacciatore, ma non basta, non basta. 2.57 alla fine, gli Stati Uniti tentano perlomeno di contenere il disavanzo, il distacco. 104.86. Larry Brown protesta con l'arbitro cittoslovacco Kotleba, non sappiamo bene il motivo. Onestamente, durante l'ultimo fischio, noi stavamo guardando da un'altra parte, stavamo guardando Kukos in panchina. Doppio palleggio adesso per Brian Williams. Pesta la linea laterale, Illich. Concentrazione ormai sembra persa, solamente due o tre giocatori americani avrebbero voglia di spaccare in due il mondo. Pass. Ma poi commettono questa inflazione. Illich. Fallo Payton, questo è fallo, sì. Non puoi pretendere di fare il cattivo e che gli altri stiano lì a guardare. Fallo di Payton. Gary Payton, 1,85 m da Oregon State University. Entra Alibegovic per la Jugoslavia al posto di Peckarski, che ha giocato niente male. Teoman Alibegovic, 2,03 m alla guardia del Bosnia. Qui ormai giochiamo con guardia di due metri e rotte. Payton a canestro, 6 punti per lui. 104,88 all'Iugoslavia potrebbe anche non segnare più un canestro, perché ormai la frittata è bella che è fatta per l'America. Sbaglia il tiro da tre. Dobrasce, poi c'è Illich che salta proprio in groppa. Ai difensori americani, commettendo un netto fallo. Tiri liberi per Augmon, numero 11. Mentre aspettiamo che tiri, vi diamo qualche notizia in più su questo. Stessi Augmon, dall'Università di Nevada a Las Vegas. Non sappiamo se sia anche un giocatore d'azzardo. Certo, finora non ha dimostrato di essere un grande giocatore di palla a canestro. Perlomeno non è avuto la possibilità in questi campionati del mondo. Non è stato molto impiegato dal suo allenatore. 104, Jugoslavia, 90 Stati Uniti, Illich in entrata, canestro. Decisamente più smaliziati i giocatori jugoslavi. Del resto loro sono abituati a giocare da tre... E' il primo canestro a tre punti per gli americani, segnato da Uri. Dicevamo, sono abituati a giocare nel campionato di Serie A, dunque, con avversari più anziani, i jugoslavi. E con avversari con grossa esperienza. Mentre invece, i giocatori statunitensi sono tutti giovani, giocano con coetanei. Scott Williams fa finta di fare il cattivo con Ali Begovic. E poi è l'altro suo compagno di squadra, Brian Williams, che va con la faccia dura a dirgli qualche cosa. 1,41 alla chiusura della partita. 106 a 93 per la Jugoslavia. Ha ridotto un pochettino il proprio distacco la formazione statunitense, ma il risultato finale gli jugoslavi ce lo sono guadagnati ormai da tempo. Strepitosa prestazione di Tony Kukov. Adesso in panchina è uscito quando mancavano più di tre minuti. con applausi meritatissimi per lui. 19 punti nel primo, 18 nel secondo. Totale 37. Ecco la scritta fluorescente di Bormia, dove si svolge questa terza edizione del campionato del mondo di Palacanestro Maschile Junior. Un'esclusiva del GAT, il gruppo reazione televisivo. Un'esclusiva di Tele Milano 2, Televiella, Telegiogli. Payton a rimettere il pallone per Uri. Ancora lui prova il tiro da tre. Gli è andata bene una volta. Fallo Illich, fallo. Due tiri liberi per Bricky. E il terzo fallo per Illich. Ritorna in campo Richard. Bisogna che qualcuno esca. Ha sei giocatori in campo agli Stati Uniti. Esce Brian Williams. 1.33 alla fine e Larry Brown le tenta ancora tutte per raddrizzare la situazione. Ammirevole. Ma un po' stolido. 12 punti per... Anzi, 11 punti per Bricky. 12 se infila. Questo tiro libero. Sì. 106 a 95. Ha quasi dimezzato lo svantaggio. La formazione americana. Da meno 20 si prova adesso a meno 11. E Raja in possesso di palla. Poi a portare a spasso gli avversari. Ci pensa Giorgevic. Si tuffa per bloccarlo. Ma qui si gioca a basket. Non a football. Per Bricky. E ci saranno due tiri liberi per la Jugoslavia. Che però rinuncia all'uno più uno. Preferisce la rimessa laterale. Ecco Brian Williams che entra in campo al posto di Bricky. E Raja. Rimette in campo per Dobrash. Cambia mano per il palleggio Dobrash. Illich. Arresto tiro. Caratteristica di Illich è quella di appoggiare sempre il pallone al tabellone. Peyton. Pritchard. Non va a rimbalzo. Che spugge dalle mani di Brian Williams. E manca meno di un minuto alla fine. Jugoslavia 108. Stati Uniti 95. Dobrash. Vuole la palla Illich. La riceve in ritardo subendo anche fallo da Pritchard. Rinuncia ancora ai tiri liberi la Jugoslavia. Evidentemente una decisione. No no. Stavolta ci ripensano. Uno più uno. In un primo tempo avevano rinunciato i giocatori alla rimessa laterale. Poi l'arbitro Zanolin non concede l'uno più uno agli Jugoslavi. Ovviamente non riesco a spiegarvi il perché. Pallone recuperato da Smith su un brutto passaggio di Raja. Da tre non va ancora la formazione americana. Rimbalzo per Raja. Che lascia Giorgevic. Forse troppo tardi gli Stati Uniti hanno pensato di mettere in campo una formazione così aggressiva. legnato di qua, legnato di là. L'arbitro interviene e fischia un fallo a Brian Williams. Due tiri liberi stavolta va in lunetta Illich. Forse troppo tardi ha pensato di aggredire i portatori di palla avversari Larry Brown. Adesso è troppo tardi. Illich 18 punte. Tutti in piedi i giocatori della panchina americana. È curiosa questa situazione. Sarebbero a fare una foto. Tutti in piedi quasi come se fossero sull'attenti ascoltando l'inno nazionale o per l'arrivo di qualche celebrità. Eccoli lì, li vedete? Prontamente inquadrati dal nostro regista. Fallo ancora, fallo ancora. E due tiri liberi per Ali Begovic che tra i giocatori entrati è l'unico a non avere realizzato nessun punto. Vediamo se almeno uno lo infila. 110, Jugoslavia, 95 Stati Uniti. Mancinone anche Ali Begovic non va al tiro. Secondo, niente, niente, non è proprio una mano dorata. Payton, Smith da tre. No, proprio... Tirano come soluzione estrema da tre punti questi americani, ma si vede che non è nelle loro abitudini, nella loro mentalità e forse non è stato loro insegnato per questo campionato del mondo. finisce qui la partita con una netta vittoria. 110 a 85 degli Stati Uniti. Grazie. Grazie.